Io sto aspettando che il meglio deve ancora venire, come era il suo slogan elettorale. Sto seminando la rinascita, qui si vede solo la disperazione della gente. Forse manca l'umanità e manca l'umiltà da parte sua di confrontarsi col cittadino, perché un sindaco deve anche, tra virgolette, prendere gli schiaffi in faccia, in senso metaforico ovviamente, ci mancherebbe altro, ma deve confrontarsi un sindaco assente, questo sei tu Rinaldo Melucci, e abbi il coraggio di guardarmi in faccia invece di chinare lo sguardo.